In caso di decesso, quanto maturato presso il fondo pensione può essere riscattato in condizioni di assoluta agevoluzione fiscale dal coniuge, in assenza del coniuge e dai figli in parti uguali, in assenza del coniuge e dei figli dai genitori dell'associato se fiscalmente a carico, in assenza di tutti e tre questi soggetti da uno o più beneficiari nominati dall'aderente.